La città è deserta, poche le auto in circolazione, pochissime le persone in giro e quasi tutte indossano la mascherina. Molti negozi del centro chiusi, le uniche piccole code si registrano all'esterno delle farmacie e davanti agli ipermercati. Si presenta così Campobasso, pochi giorni dopo l'ennesima stretta del governo. I cittadini hanno recepito la gravità della situazione ed accolto di buon grado le regole rigide imposte da Conte. All'ospedale Cardarelli è stata installata la tenda del pre-triage, una sorta di anticamera nella quale chi deve recarsi alla struttura di tappino viene sottoposto a controlli. Stesso discorso per il Gemelli Molise, accanto all'ingresso principale il pre-triage e gli utenti che vengono accompagnati all'interno per essere controllati. Intanto l'Avis lancia l'appello a donare sangue nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal decreto del governo. Il problema in questo momento a livello regionale è che sono chiusi tutti i centri trasfusionali. Abbiamo provveduto a mettere a disposizione il centro di raccolta sangue per quanto riguarda l'Avis Molise. Il problema è che questa disponibilità purtroppo per problemi di ordine medico ci sarà la possibilità di donare fino a questo venerdì. Noi ci auguriamo che da lunedì si possa riaprire almeno il centro trasfusionale di Campobasso, soltanto che dobbiamo aspettare una comunicazione da parte del direttore sanitario ospedaliero. Quindi comunque chiunque voglia ancora donare tra domani e dopodomani può telefonare al 333 19 9 41 49 per un appuntamento per evitare assembramenti nel momento della donazione. Senta, di cosa c'è bisogno? Tecnicamente c'è bisogno principalmente dei gruppi negativi perché come al solito abbiamo una grossa carenza e comunque gli interventi operatori continuano abitudinalmente. In questo momento c'è una carenza principalmente dello zero negativo e del binegativo. Se non fosse più possibile appunto donare sangue che cosa potrebbe accadere? Ci sono le scorte? Allora, ci sta comunque una scorta che logicamente non è infinita. Noi ci auguriamo che comunque i centri trasfusionali possano riaprire. Noi abbiamo questa grossa difficoltà anche perché in questo momento specialmente nel centro trasfusionale di Campobasso abbiamo una sola dottoressa e solo due infermieri. Quindi anche questo è un grosso problema che noi ci auguriamo e stiamo spingendo che possa essere risolto perché altrimenti purtroppo le sale operatorie poi le dobbiamo comunque incominciare a chiudere se la scorta di sangue dovesse venire meno.